Vieni presto! Orso slega un capo della pompa all'antenda tv! Subito capo! Mi raccomando Riffi, stai attento quando scenderai! Piantatela con le spezzerie, qui tutto è pronto! Anch'io sono pronto! Gettatemi la pompa! Pronto? Eccola! E ora pronti! Giù da Grisby! Presto, presto! Il vestito di Grisby si sta rompendo! Arriva! Bravo, l'ha raggiunto! Fatto ragazzi, tiratelo su! Oh Isa! Oh Isa! Si sta rompendo tutto! Si rompe, si rompe! Atenti ragazzi, tenete forte la pompa! Sono salvi! Come stai Grisby? Tutto bene? Ciao! Allora, chi ha vinto la sfida? Già la sfida... Ci eravamo dimenticati! Naturalmente, abbiamo vinto noi! Sono stata io a toccare per prima il terrazzo in cima! E Ursus ha toccato l'antenna di Z! E dei soliti imbroglioni!